Progettazione, dinamiche relazionali, sessualità e disabilità, pronti nuovi corsi del Centro Servizi per il Volontariato di Foggia. Organizzati su piattaforma Zoom, puntano ad accrescere le conoscenze dei volontari per affrontare e gestire al meglio tematiche e disagi di grande attualità in un territorio, quello di Capitanata, con profonde ferite nel tessuto sociale. Si parte nel mese di ottobre con il corso Progettare il Volontariato. A novembre invece sono in programma altri due corsi, il primo affronterà il tema della gestione delle relazioni all'interno dei gruppi associativi, il secondo punta a far conoscere ai partecipanti lo sviluppo corporeo e affettivo delle persone con disabilità. Uno dei tanti corsi è questo qua della progettazione, abbiamo anche altri corsi in atto che inizieranno, abbiamo anche dei corsi che siano rivolte anche a delle associazioni che si occupano soprattutto con le carceri, con l'ufficio esecuzione penale esterna, dove noi abbiamo anche dei protocolli di intesa, sia con l'ULEPE, con l'ufficio esecuzione locale penale esterna e sia con il Tribunale. Quindi abbiamo anche fatto dei corsi insieme con loro, proprio in sinergia. Come stiamo facendo anche questo corso che secondo me è anche innovativo sulla sessualità per quanto riguarda la disabilità, che è molto sentito dalle associazioni. Forse è un tema che cerchiamo o forse a livello inconscio molti cercano di accantonarlo, di non parlarne, di non attuarlo, però è una grossa problematica soprattutto per le famiglie, per i ragazzi, per questi ragazzi che hanno queste problematiche. E quindi noi che la nostra mission è quella di stare vicino proprio al mondo della disabilità, alle persone che hanno bisogno, a tutta una serie di fragilità che esistono in questo mondo e noi dobbiamo cercare in tutti i modi di dare il massimo dell'apporto e il massimo dell'aiuto.